Allora, Glitter, il frappè di tuo credimento? È una nuova miscela? Oh sì, Alice, è buonissimo come sempre, anzi, anche di più. È arrivata una nuova mail. Oh, non sarà di nuovo una notizia di quella gossip doll? No, non sembra lei e... Cosa? Non ci posso credere! Non ci posso credere! Cosa? Sul serio? A giudicare dal tuo entusiasmo sembra una mail molto bella. Di cosa si tratta? Sì, non sono invadente. Oh, Alice, non sai quanto vorrei dirtelo, ma nella mail c'è scritto di mantenere il segreto per un altro po'. Devo assolutamente trovare Candy. Ehm, ok, ma hai lasciato il portatile? Andiamo, Candy, quanto ci metti? Devo assolutamente condividere questa cosa con qualcuno e posso farlo solo con lei. Ehi, Glitter, ma che cos'è questo baccano? Cos'è tutta questa fretta, questa cosa? Che che è successo? Oh, Candy, finalmente ho ricevuto una notizia stravigliante e posso dirla solo a te, ma vorrei dirla a tutto il mondo, però posso dirla solo a te. E quindi, ok, sei pronta? Sei pronta? Sei pronta? Senti, io non so, Alice, cosa ci mette in quei frappi per farti avere tutta questa energia alla mattina. Io, però, sono ancora nel mondo dei sogni, quindi stai calma. Oh, ma non è stato il frappi di Alice, Candy, è questa notizia, è fantastica, è un sogno che si avvera. Dovrò sistemarmi? Oh, sì, così non vado bene. Dovrò fare un altro restauro perché dovrò essere perfetta. Ok, vabbè, ne facciamo che quando vorrai rendermi partecipe della cosa sono qui, eh, con calma, mo' troppa calma. Insomma, me lo vuoi dire o no? Oh, giusto. Allora, hai presente la fiera G come giocare a cui siamo state l'anno scorso e dove ci siamo divertite un mondo insieme alla camera, girl? Oh, sì, molto bella. La fanno tutti gli anni quella fiera, andremo anche quest'anno? Ah, ok, e vabbè, sì, sono felice, però, mamma mia, pensavo cosa... No, Candy, aspetta! Quest'anno io e te siamo state invitate, incontreremo le Glitters! Cosa? Andremo ad incontrare i nostri fans? Esatto, ci faranno una piccola intervista sul parco, potremmo interagire con loro, sarà bellissimo! Oh, devo prepararmi per bere, devo prepararmi, questi capelli non vanno bene, nemmeno l'outfit! Sono in crisi, sono in crisi Ho capito, ho capito Che c'è Candy? Non sei eccitata all'idea? Potremmo parlare con loro Incontrarli Oh sì sì Staremo su un palco E poi ci saranno tutte le glitter Aiuto Ah ok, allora sei emozionata Ehi però mi raccomando Candy Non dobbiamo dirlo a nessuno D'accordo? Deve restare fra noi Per ora Oh sì sì certo, fra noi Oh sì resta fra noi Io Incontrerò le glitter Saggi come giocare Candy per favore non urlare Oh beh sì sì certo Non lo saprà nessuno, acqua in bocca Buongiorno famiglia Martinez Come va, come va, come state Io tutto bene, benissimo Buongiorno Candy Che gioia vederti così felice E per un motivo in particolare Eh sì ma Non posso dirlo Non posso proprio dirlo Per favore non insistete Non insistete perché Io non parlerò Non ve lo dirò Ciao Candy Sei venuta per andare a provare insieme I nuovi frappei di Alice Ho saputo che sono buonissimi No Melanie a quanto pare Candy ha avuto una splendida notizia Che vorrebbe tanto dirci Ma che non può dirci Oh andiamo Ma si vede che sta esplodendo E che fra poco ce lo dirà No Candy Se è un segreto Non dovreste dirlo Ah Candy Che succede No eh No Però se insistete così Io come faccio Io ve l'ho detto Non posso dirvi Che io e Glitter Saremo ospiti Speciali Agi come giocare La fiera del giocattolo Che si terrà a Milano Cioè capite Non ve lo posso dire Ah Se l'hai appena detto Candy Ed è una notizia fantastica Oh che bello Candy Sono super orgogliosa di voi Ve lo meritate Incontrerete i fan? Ah si Eh vabbè Ormai ve l'ho detto Si si Incontreremo i fan Sarà bellissimo Oh Io ho così tanta paura E se poi da vicino A noi gli piaccio E se poi dicessi qualcosa Di sbagliato Assolutamente no Candy Vedrai che ti adoreranno tutti E adoreranno anche Glitter Che sicuramente ora Starà di nuovo Dalla parrucchiera Oh vi ringrazio Per la fiducia E mi raccomando Eh però Adesso acqua in bocca Non ditelo a nessuno Melanie Festeggiamo d'Alice Con un bel frappè Andiamo Certo Acqua in bocca Ehi Jimmy Allora sei contento per Candy L'accompagnerai anche tu a Milano Per Per che cosa Mike Sì tranquillo Lo so anch'io Candy e Glitter Saranno ospiti A G come giocare La fiera del giocattolo A Milano Wow Sarà una grandissima emozione Sul serio Dai Ma che bella notizia Mamma Come Non lo sapevate Pensavo che almeno a te L'avesse detto Oh ragazzi Allora mi raccomando Non ditelo a nessuno Perché è un segreto Oh no Certo No vabbè Forse non ho ancora avuto il tempo Di dirmelo Wow Sono troppo fiero Della mia fidanzata Oh no no Tranquillo Non lo diremo a nessuno Ciao Marino Anche tu qui Hai accompagnato Glitter Per l'evento speciale Ehm no Glitter è venuta prima di me Ma quale evento speciale Ehm no niente Se non lo sai Non posso dirtelo Scusami Cindy Quale evento speciale Cioè Hai capito Blair Saranno ospiti A G come giocare Incontreranno i fan Perché non mi hanno detto Una cosa del genere Oh Sono loro amica Dopotutto Beh se non te l'hanno detto Avranno i loro motivi Marino Evidentemente Nella mail Ce l'ha scritto Di mantenere ancora il segreto Ma sono sicura Che te l'avrebbero detto Però Se proprio vuoi vendicarti Io saprei come fare Mh no E che c'entra Anche se nella mail Ci fosse scritto Non dirlo per cento anni A me avrebbero dovuto dirlo Che cosa hai in mente Blair Beh a chi si manda una notizia Se non vuoi Che resti segreta Mmm Gossip doll Esatto Sono sicura Che sarà felicissima Di avere questo scoop Su Mandiamole subito La soffiata Qui dice Che lo show Di Glitter e Candy Sarà sabato 23 novembre Dalle 12 Alle 12 e 30 Wow Che bello Oh Candy sarà emozionatissima Non vedo l'ora di vederla Ragazze Che state facendo Oh no Ho dimenticato qui il portatile Scusami Glitter Che eravamo troppo troppo curiose Oh Complimenti Grazie Alice Sono contenta che tu lo sappia Comunque Non si fa Ok E poi mi raccomando Non ditelo A nessuno Tranquilla Acqua in bocca Pip 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 Oh Sarà un nuovo scoop Di Gossip Doll Ora non ho tempo Per vedere i suoi scoop Devo prepararmi Per l'evento Non ci posso credere Perché quelli di G Come giocare Hanno invitato solo te Candy E a me no Non sono riuscita A diventare abbastanza famosa Wow ragazzi Complimenti Sarà una bellissima esperienza Glitter cerca di trovare Anche un altro ragazzo Chuck Perché non l'accompagni Oh Mi farebbe molto piacere Cosa? Ma che Come fate a saperlo? L'ha scritto Gossip Doll Congratulazioni Glitter Oh no Ma come fa quella Gossip Doll A sapere sempre tutto Accidenti Però sono contenta Che lo sappiate Non capisco perché Mi abbiano chiesto Di mantenere il segreto Io voglio urlarlo a tutti Ecco brava Anche perché a quanto ho capito Lo sa tutta la città Glitter Mi avevi detto Di mantenere il segreto Lo sapeva anche Jimmy E Cindy E anche Marin L'hanno saputo Grazie a Gossip Doll Candy E lei come faceva a saperlo Forse ci ha invitato lei Ne dubito L'impressione di non starla È molto simpatica E va bene Allora Permettetemi di fare L'annuncio Come si deve Io E la mia migliore amica Glitter Saremo presenti Il 23 novembre Alla fiera dei giocattoli G come giocare Che si terrà A Milano Bravissime Eh già Ma c'è un segreto Che Gossip Doll Però non ha svelato E che ancora Nessuno di voi sa Ah sì Nemmeno io No Candy Nemmeno tu Camera girl Vuoi dirlo tu? Allora Glitters Praticamente Come è già stato detto Moltissime volte In questo video Troverete Glitter E Candy Agi Come giocare La fiera dei giocattoli Che si terrà a Milano Trovate tutte le info Qui sotto Nell'info box Mi raccomando Andate sul sito Perché li trovate Tutte 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 le informazioni La nostra esibizione Ci sarà Dalle 12 Alle 12 e 30 Sul palco principale Mi pare Sì esatto Sì beh E il grande segreto Dai Sì che devo mandarlo A Gossip Doll Quello che ancora Non è stato detto In questo video E che Non interesserà a nessuno Probabilmente Ma io spero Vi faccia piacere E che potrete incontrare Anche me Sì La camera girl No infatti Non interessa a nessuno Grazie Mike Mi fai sempre inquadrature Super brutte Ebbene sì Glitters Potremo finalmente Conoscerci E abbracciarci Fateci sapere Cosa ne pensate Di questa iniziativa Se siete contente Se verrete A Milano A vederci Noi vi aspettiamo In tantissimi Per abbracciarvi tutti Il nostro video Finisce qui Vi ricorderemo Di questo evento Anche nei prossimi video Nel frattempo Se questo video Vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un bel pollice in su Cliccate qui Per iscrivervi al canale E qui per non perdervi Tutti gli altri video Dedicati ai vostri giochi preferiti Noi ci vediamo Al prossimo video E mi raccomando Non ditelo a nessuno Ciao